Tutto è nato da una visita che io ho fatto all'istituzione carceraria mantovana prima di Natale. È bene che la collettività mantovana sappia che la situazione nelle carceri mantovani è veramente disastrosa perché vi sono molte situazioni di degrado dovute al sovraffollamento di questa struttura. È una struttura che manca di alcuni servizi elementari e quindi nell'ambito di una manifestazione che è stata organizzata dai miei amici per fare gli auguri al sindaco dove vi erano mille persone abbiamo pensato a una iniziativa di sostegno, di beneficenza, così possiamo dire, indirizzata verso le carceri mantovane. Sono dieci frigoriferi che andranno, d'intesa con il direttore Baraniello con il quale vi è un grande spirito di collaborazione fra lui e il sindaco, insomma il comune di Mantua, dieci frigoriferi che andranno nelle dieci stanze che contengono un grosso numero di detenuti. Insomma è un primo gesto di solidarietà e di vicinanza della collettività mantovana alle carceri e ci auguriamo che non sia l'ultimo ovviamente, ecco perché sono tante le necessità che ancora sono presenti. Di là dei frigoriferi la convivenza di molte persone quindi rende invivibile la racelle quindi sarebbe opportune ridurre la presenza di detenuti anche nei Cameroni perché noi abbiamo celle che all'inizio erano destinate 7-8 detenute adesso arriviamo a 14-15 quindi già da questo. A di là di questo io credo che i frigoriferi sono una roba importante perché servono almeno alla conservazione dei prodotti, dei cibi in modo tale che non ci siano situazioni sanitarie che potrebbero compromettere la salute dei detenuti. Servirebbero ancora, quindi sono solo 10 Cameroni, adesso noi forniamo i frigoriferi ma le celle sono oltre 40 quindi sarebbe opportune, l'ideale è quella di fornire tutte le celle di frigoriferi quindi in modo tale che non ci sia una discriminazione tra detenute e detenute altrimenti ci vorremmo trovare che le parecchie detenute vorrebbero andare tutti nei Cameroni piuttosto che stare nelle celle singole perché hanno più possibilità di conservare i cibi. Il sovraffollamento non si risolve con i frigoriferi ma magari ci vorrebbe quindi dal punto di vista legislativo qualcosa più forte dei frigoriferi. Questo è un primo passo per rendere più vivibile perché noi abbiamo, consideriamo che uno è una persona quindi dobbiamo rispettare la sua dignità di persona e la sua privacy. Sono piccole iniziative che comunque possono rendere più vivibile un momento particolare della loro vita. Questo è il nostro obiettivo, quindi di rendere meno pesante la detenzione.